Allora Mauro, oggi ci troviamo a Negrar. Preciso, noi non ci troviamo realmente a Negrar, noi ci troviamo virtualmente a Negrar. Ci piace pensare di essere in quel luogo in cui questo vino è stato creato. Qualche volta nelle cantine ci andiamo, chi ci segue lo sa bene, qualche volta siamo nella nostra piccola cantinetta che facciamo le nostre belle degustazioni. E quando lo assaggiamo ci trasporta mentalmente verso quella zona. Assolutamente, poi ci sono vini che ci trasportano meno, vini che ci trasportano del più. Qui oggi stiamo parlando di un passito e ho come il dubbio farà il teletrasporto. Esatto, esatto, però diamo tempo al tempo. Allora stavamo dicendo a Negrar, questa è una cantina che si chiama Benedetti la villa. Di fatto Benedetti è il nome della famiglia, mentre la villa è un riferimento storico al fatto che c'era una villa romana del secondo terzo secolo d'Apocristo. Infatti sull'etichetta c'è disegnato praticamente una biga trainata da cavalli che ricorda un po' questa estrazione sostanzialmente romana. Che vino abbiamo? Allora diciamo che nella scheda tecnica e ovviamente neanche in etichetta non ci sono scritte le uve con cui viene fatto. È un IGT di Veneto? È un rosso IGT, è un rosso passito IGT e visto la zona e visto un po'... Valpolicella. Sì, siamo nella Valpolicella, sì. Visto un po' i profumi e il sentore che ha questo vino diciamo che c'è una buonissima probabilità che sia fatto con le uve della Valpolicella, quindi corvina e corvina. Della Marone. Esatto. Della Marone. Queste sono probabilmente, speriamo, le uve della Marone. Di fatto, di fatto, io posso supporre che sia un reciotto che però, siccome il reciotto è una DOCG, in quella che rappresenta l'eccesso di produzione, il vino viene declassato a rosso IGT. Ma, di fatto, è un vino che regala buone emozioni. Quindi è un reciotto mascherato. È un reciotto mascherato, sì. Forse. Ovviamente noi queste informazioni le raccogliamo dalle nostre sensazioni e da quello che cerchiamo, ovviamente, in internet. Diciamo che, se vogliamo essere corretti, è un vino rosso dato da uve passite che ricorda molto il reciotto della Valpolicella. Ok, diciamola così e così la prendiamo per buona. Allora, semplicemente tenendo il bicchiere a questa distanza, c'è una amarena. Sì, quale amarena? No, guarda, a me ricorda la amarena che si troviamo sui gelati. Sai quella che si mette... Quella candita. Quella candita, bravo. Questa cosa mi viene proprio immediatamente al naso e devo dire che ha un profumo dolce, veramente intrigante. Anche al gusto. Vado? Assalzalo. Vado. Sono emozionato. Allora, io devo dire che, insomma, i vini dolci mi piacciono sempre moltissimo. Questo ha, appena lo metti in bocca, la amarena è presentissima. È dolce, ma non... Ha una caratteristica che non è comune. Di fatto, la parte zuccherina, la parte dolce rimane per poco e poi ti resta la bocca pulita. Ma, assolutamente. Infatti, non ho la sensazione di avere quel gusto dolciastro persistente nella bocca, quindi... Non è assolutamente un vino stucchevo. Cosa ci mettiamo qui? Io direi un formaggio? Ci sta? Ma, allora, può starci benissimo un formaggio anche aromatizzato, anche un formaggio stagionato sotto le sarpe. Qui da noi vengono chiamati i formaggi imbriaghi. Ok, ok. Che sono dei formaggi che fondamentalmente vengono fatti stagionare coperti dalle sarpe dell'uva con cui vengono... Le sarpe, che è un termine veneto, sono le vinacce. Sì, le bucce. Ma, ovviamente, anche dei dessert. Una cosa che non abbiamo detto è che, una volta trasformata l'uva in vino, fa 48 mesi in botti di rovere e poi un affinamento di 6 mesi prima di essere messo... Possiamo concludere dicendo che, anche se non è un reciotto di OCG, è un vino che merita di essere assaggiato perché, comunque, lo ricorda ed è un gran prodotto. Ok, io ti saluto e, scusami, ma ho un impegno. Ciao. Ok. 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 Ok.